Vuoi aumentare le vendite e non sai come fare? Ci pensa Wasai Media. Secondo una recente ricerca, il 68% delle persone compie un acquisto perché uno schermo ha catturato la loro attenzione e indirizzato le loro scelte. Gli schermi sono uno straordinario strumento di vendita. Allora, perché la maggior parte di negozi si affida al volantini e poster cartacei per fare il loro marketing? Molti commercianti non utilizzano gli schermi per fare il marketing, per la mancanza di un software semplice da usare. O ci sono gli altri che usano lo schermo, ma si limitano a inserire una chiavetta USB, credendo che sia sufficiente per aumentare le vendite. E il risultato che ottengono è quello di mandare in fumo il potenziale fatturato. Se anche tu sei il proprietario di un'attività commerciale, con poco tempo a disposizione e stai cercano un software adatto allo schermo, non ti preoccupare, la soluzione esiste e si chiama Wasai Media. Crea o aggiorna il tuo contenuto per il marketing in poco tempo, senza che tu debba essere un grafico o un esperto di marketing. Wasai App è la prima app in Italia che ti aiuta a aumentare le vendite usando la forza comunicativa degli schermi. Promuovi prodotti, offerte o eventi con i video e le immagini animate incluse nella Wasai App. Tutto questo costruito su misura per il tuo business e senza alcuno sforzo. Ti basterà trovare il tipo della tua attività e scegliere il modello che preferisci tra le varie soluzioni grafiche disponibili. E collegare il nostro schermo con alta luminosità e risoluzione. Fai subito una prova gratuita e crea il tuo contenuto marketing in pochi secondi. Con Wasai App è facile e veloce. E allora cosa aspetti?